A 300 chilometri all'ora tra le città sante dell'Arabia Saudita è stata inaugurata la tratta ferroviaria ad alta velocità che collega la Mecca a Medina. All'evento a Jeddah ha preso parte anche il re Salman d'Arabia insieme ad altri dignitari del paese. Si tratta del più grande progetto infrastrutturale del Medio Oriente e attraversa prevalentemente territori desertici. Modernissimo e super accessoriato il treno trasporterà viaggiatori e pellegrini sui 450 chilometri che dividono le due città in due ore contro le cinque attuali.